Ha subito l'1% di invalidità permanente per l'aggressione causata da un cane randaggio, la furia di un meticcio contro una ragazzina minorenne che non ha avuto scampo dopo essere stata addirittura addentata più e più volte in diverse parti del corpo. La storia è quella dell'alcamese S.D.B. che a distanza di due anni porta ancora quei terribili segni non solo psicologici ma anche fisici. Per questo motivo il comune di Alcamo è stato condannato a rifondere alla vittima dell'aggressione un risarcimento danni pari a 3.400 euro. A demettere la sentenza il giudice di pace che ha riconosciuto il comune colpevole perché non ha garantito adeguata sicurezza ai suoi cittadini non riuscendo ad arginare il fenomeno del randaggismo. Una sentenza che ricalca quelle oramai consolidate dalla giurisprudenza a livello nazionale considerando l'istituzione locale in quanto responsabile della salubrità dell'ambiente di fatto proprietaria di un animale che non ha padronanza privata come nel caso specifico. Essendo quindi un randaggio ne risponde il comune di eventuali aggressioni o altri danni causati dall'animale vagante. L'episodio risale all'estate del 2015. Secondo la ricostruzione dei fatti la minorenne stava tranquillamente passeggiando in Via L'Italia, una delle strade principali della città in compagnia della madre, A.F. e di altre persone. Arrivata alla diacenza di una villetta comunale il cane sarebbe sbucato all'improvviso azzannando più volte la ragazzina che traurle strazianti a tanta paura solo dopo l'intervento della madre e di altre persone è riuscita a mettere in fuga l'animale. Storia che è sfociata dapprima in una denuncia della madre della vittima dell'aggressione e poi in un contenzioso legale. Nel frattempo il medico legale nominato dal giudice di pace ha effettivamente quantificato nell'1% il danno permanente riportato dalla minorenne. Questo è solo l'ultimo di una catena di episodi collegati al randagismo che si sono consumati ad Alcamo. Quello più recente ed è appena un paio di mesi fa quando poco prima di Natale diversi cani randaggi che da settimane stazionavano in Contrada Sasi con segnalazioni fatte anche al comune sono stati avvelenati su cinque animali intossicati in due morirono. In realtà il comune Alcameso per meglio dire i propri concittadini scontano anche fin troppo il problema del randagismo ancora oggi. Da considerare infatti che ogni anno il municipio paga all'incirca 400 mila euro per il ricovero di 50 cani accalappiati ad Alcamo negli anni e ricoverati in un canile di Rocca di Neto in provincia di Crotone. La retta giornaliera per singolo animale praticata dal canile calabrese è pari a 1,56 euro esclusa IVA fissata al 22%. Moltiplicando questo dato per gli 11 anni di detenzione si arriva alla stratosferica cifra di circa 5 milioni di euro centesimo più centesimo meno. Situazione che si consuma con sullo sfondo il paradosso di un rifugio sanitario realizzato dal comune da tempo che però non apre i battenti. Prima per una serie di intoppi burocratici poi scoppiò il caso della denuncia dei lavori abusivi da parte di un oramai ex consigliere comunale Alessandro Calvaruso con tanto di esposto alla procura della Repubblica di Trapani. È stata appaventata l'ipotesi che la struttura fosse stata realizzata in area protetta e vincolata e per di più era già utilizzata tanto che al loro interno sono stati trovati diversi cani.